benvenuti a una nuova puntata di gagliardi fotografi oggi facciamo un unboxing e sono finalmente arrivate le apple airtags abbiamo una confezione da quattro pezzi proviamo ad aprirla e adesso finalmente attenzione attenzione ecco qua le quattro airtags sono tutte e quattro serigrafate proviamo a aprirne una ecco questa appunto è la mia quindi apriamo questa e probabilmente quest'altra anche esattamente bene apriamone una ecco qua ancora bella lucida per poco credo ecco abbiamo la scritta che ho fatto mettere al momento dell'acquisto bene adesso effettuiamo l'accoppiamento di uno di questi airtags con un telefono un iphone vediamo che succede intanto togliamo la linguetta di protezione dalla batteria ecco è stato subito individuato connettiamo mi chiede a che cosa lo voglio associare diciamo classicamente alle chiavi abilita ulteriori funzionalità di airtags condividendo la posizione di questo iphone ok registra airtags con il tuo id apple e abbiamo le nostre chiavi vediamo che cosa chiede adesso mi dice ha già individuato il posto mi dice individuazione esatta quando airtags si trova nelle vicinanze la sua posizione esatta verrà indicata da una freccia poi fai suonare e indicazioni in mappe benissimo visualizza l'app su dove d'accordo vediamo un po tanto se me lo fa vedere perfetto individuato adesso proviamo le varie opzioni fai suonare ok proviamo adesso la modalità trova adesso ci allontaniamo adesso proviamo a ritracciarlo ecco che l'ho trovata vi offrevo le indicazioni dice che nelle vicinanze non lo individua perfettamente però una volta che mi avvicino perfetto lui diminuisce la distanza e adesso l'ha trovato otto adesso proviamo la modalità smarrito mi dice che cosa accadrà riceverai una notifica quando la posizione diventerà disponibile poi mi dice l'oggetto è associato al tuo id apple quindi nessun altro può eseguire un abbinamento e poi il mio numero di telefono associato continua inserisci il numero di telefono e gli dico notifica quando provate in questo momento però non me lo fa attivare perché mi trovo nelle vicinanze dell'oggetto proviamo ad uscire da qua e e e bene per il momento è tutto con questo primo unboxing delle artes spero che vi sia stato utile e credo nei prossimi giorni che farò alcune prove in modo da metterle a disposizione di tutti benissimo adesso per finire abbiamo anche i tag holder quindi concludiamo l'unboxing e sistemiamo le air tag qui dentro apriamo la confezione e abbiamo due holder uno nero e uno rosso adesso sistemiamoci le air tags come vedete è molto semplice e la configurazione è già terminata adesso mettiamo anche l'altra ecco qua che ha suonato benissimo adesso vediamo anche come si aprono quindi dobbiamo applicare una leggera pressione girare qui troviamo la batteria rimettiamo la batteria quindi applichiamo una leggera pressione inseriamo queste linguette metalliche negli appositi spazi premiamo e poi giriamo leggermente ecco fatto adesso ci siamo le nostre air tags sono pronte ve le faccio rivedere e con questo la puntata è finita verificheremo alcune funzioni più avanzate nei prossimi episodi ciao a tutti e sottoscrivetevi al mio canale grazie